colazione de mannaggia padre mio ma che stai cattolico sinceramente no non ci sto sono le 8 e 10 per carità mi dispiace per carità sono le 8 e 10 così non si può giocare prenderò più vedimenti scusamente non ho fatto i compiti sono fatto tutto non ho fatto i compiti si vota ora è 14 e 50 ecco per me qua è il paradiso via Dreville ti amo